Conoscere la lingua del paese che ti ospita è condizione essenziale per intraprendere qualsiasi tipo di integrazione. È partendo da questo presupposto che l'Associazione Culturale del Bangladesh di Arezzo, Caritas Diocesana e Fraternita dei Laici hanno unito le forze elaborando un percorso educativo e formativo condiviso per offrire richiedenti asilo e profughi gli strumenti necessari per integrarsi nella realtà locale. Così, a partire da martedì 12 agosto presso i locali della Caritas in via Fonte Veneziana, nella cosiddetta Sala delle Associazioni, verrà attivato un corso di italiano. Un importante progetto di collaborazione tra enti diversi che condividono azioni educative di promozione umana attraverso il lavoro di rete che porterà a condividere altre iniziative. Sono 30 le persone ospitate nell'aretino dalle tre realtà che parteciperanno al corso, suddivisi in piccoli gruppi così da poter intervenire in maniera più mirata con quanti hanno un basso livello di alfabetizzazione. Le insegnanti provviste di certificazione di ITALS sono due docenti professioniste dell'Associazione Culturale del Bangladesh, che da maggio svolgono le lezioni ai profughi ospitati dall'Associazione Medesima e dalla Fraternita dei Laici. Obiettivo del corso è oltre quello di dare ai richiedenti asilo e ai profughi gli strumenti necessari per padroneggiare la lingua italiana, anche quello di fornire una conoscenza in materia di educazione civica.